Lo sgombero dei profughi ha liberato i locali della ex circoscrizione di via 24 maggio che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale dovranno ospitare il centro di aggregazione giovanile spazio 2. La pratica però ha subito una serie di intoppi a cominciare dal fatto che il bando per la gestione della struttura ormai pronto in procinto di essere pubblicato è stato bocciato. Il progetto è di fatto congelato e dovrà essere rifatto. Della questione si sta occupando il nuovo assessore alle politiche giovanili Giulia Piroli che ha raccolto il testimone da Paolo Beltrani. Cambierà leggermente l'impostazione del centro. L'incubatore di imprese tecnologiche innovative non sarà più previsto in via 24 maggio ma troverà un percorso autonomo che lo potrebbe condurre interamente in via Roma o nei locali inutilizzati di Piacenza Expo. La ex circoscrizione dunque sarà interamente dedicata alla creazione di una cittadella giovanile fatta salva alla sala ex consiglio che ospita anche le riunioni di varie associazioni. Il bando per spazio 2 però sarà quasi interamente rifatto visto che quello redatto nei mesi scorsi non viene giudicato dall'amministrazione sostenibile economicamente da una potenziale gestore con il rischio concreto che un'eventuale gara vada deserta. Nei giorni scorsi l'assessore Piroli ha incontrato alcune associazioni giovanili lo stesso dovrebbe fare nel futuro prossimo. Al momento l'unica certezza è che il vecchio progetto è congelato e i tempi di realizzazione di quello nuovo non si profilano come brevi come invece sembrava prima del rimpasto di giunta.